Buongiorno a tutti, sono Emiliano Rozzino per il giornale La Voce, siamo a Chivasso, a pochi metri da Corso Galileo Ferraris, di fronte ad un cantiere. Siamo qui con il consigliere comunale Bruno Prestia, della lista civica per Chivasso, per parlare di un problema che ormai si trascina da un po' di tempo, ossia questo cantiere è stato aperto anni fa, avrebbe dovuto chiudere nella primavera del 2022 e oggi invece è ancora qui, come potete vedere. Prestia sul punto ha presentato una mozione la scorsa settimana per chiedere conto all'amministrazione comunale sui ritardi nella chiusura del cantiere e quindi nella riapertura della strada. Prestia ci racconti un po' intanto perché siamo qui e come mai questo cantiere è ancora qua? Buongiorno a tutti, grazie Emiliano, siamo qui perché fondamentalmente è da un anno quasi che il cantiere risulta fermo ed è in ritardo l'apertura della strada, di conseguenza abbiamo notevoli segnalazioni degli utenti perché c'è un passaggio ovviamente che è completamente sbarrato, di conseguenza chi abita in queste zone deve fare un giro o non indifferente, bisogna andare, fare il giro passando dove c'è il penni e rimettersi sul corso Giro Ferrares, quindi crea un forte disagio. Tra l'altro anche nel periodo invernale col freddo, con la pioggia e col gelo avevamo chiesto di poter quantomeno aprire, visto che era tutto fermo, un corridoio in sicurezza per gli utenti, per passeggini, carrozzine eccetera, ma ovviamente come tante altre cose non è stato preso in considerazione. Cosa serve questo cantiere? Allora questo cantiere ha più funzionalità nel senso che si ricollega sia alla rotonda che stanno facendo davanti all'autolavaggio che serve poi da collegamento al cavalcavia, che poi permette di superare tutta quest'area per andare nella zona cappuccina, per farlo un po' più facile. Questo cantiere doveva essere aperto aprile-maggio dello scorso anno, però ovviamente come possiamo vedere, in ritardo ormai quasi vicino all'anno, i disagi non sono pochi. Nella tua mozione tu chiedevi di verificare un po' lo stato dei lavori, continuerai comunque a chiederne conto perché se ne discuterai in consiglio comunale? Che risposte ti aspetti e soprattutto continuerai a vigilare su questa situazione? Sì, sicuramente continueremo come in ogni argomento a vigilare e monitorare, tanto più che l'utenza giornalmente chiede conto, per cui in consiglio chiederemo, nonostante siano ripresi oggi o solo ieri i lavori, chiederemo conto dello stato di fatto, ma soprattutto dei tempi di consegna che vengono rispettati, perché a distanza di quasi un anno penso che sia un ritardo molto grave per la nostra città. Ok, ringraziamo il consigliere comunale Bruno Pestia per essere stato con noi e vi diamo appuntamento sui nostri canali social www.giornalavoce.it, Facebook, Youtube per rimanere aggiornati con le notizie del territorio. Grazie.